Benvenuti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Andiamo subito a vedere questa bella occasione perché di questo si tratta. Stiamo parlando di una Ford Fiesta 1.2 di cilindrata 5 porte immatricolate nel 2016. L'allestimento è di tutto rispetto, qui vediamo gli antinebia, i cerchi in lega, i pneumatici invernali ed ora visioniamola nell'interno. L'impianto stereo, tra le altre funzioni, comprende anche la presa AUX e la presa USB. Ed ecco qui il chilometraggio, certificato e garantito. Divano posteriore con schienali abbattibili e attacchi Isofix. Allora chiamateci immediatamente o mandateci un WhatsApp per tutte le altre informazioni. Ciao!